. US Open 2017, Kvitova vs Muguruza, snodo cruciale. Il quarto turno, al femminile, regala un incrocio nobile ed intrigante. Sull'Arthur Asche, primo match della sessione serale, si affrontano Garbine Muguruza e Petra Kvitova. . Doveroso partire, nella nostra introduzione, dalla campionessa cieca, sfortunata e costretta a un lungo stop per il problema alla mano. Un rientro non semplice, il titolo a Birmingham come oasi di ristoro, poi risultati contrastanti. . Lungo il percorso di preparazione Allus Open, ripetuti schiaffi in grado di piegare anche una tennista del livello di Petra. Secondo turno a Stanford, il crollo con la giovane Bellis, poi la doppia fermata, a Toronto e Cincinnati, con la Stephens, infine la mazzata ricevuta dalla Zanga New Haven. 62-61, primo impegno funeisto. . A Flushing Madoves, dopo l'approccio alterno con Lajankovic, deciso cambio di passo. 61-62 alla corne, 60-64 alla garcia. La Kvitova torna a far sentire il suo peso, si iscrive alla contesa. Sullo sfondo, la figura di Garbine Muguruza. . Surce, Abbie Par, Getty Manges North America. La Spagnola ha al momento le chiavi del circuito femminile, al di là della classifica. Continuità ad alto livello, una gamma di soluzioni di primo piano, potenza e personalità. . . Il 1000 di Cincinnati, finale senza storia con l'Alep, conferma la capacità della Muguruza di emergere in differente contesto. . . Non a caso vanta due titoli slam, sull'Erba di Wimbledon, anno 2017, e sullo Rosso di Parigi, anno 2016. Il rapporto con l'Uso Open è piuttosto acerbo. . . 4 Le apparizioni a New York, mai oltre il secondo turno prima della stagione corrente. Un solo impegno di rilievo finora, con l'Arriba Ricova, travolta con Periodico 61. . In precedenza, le Pchenko e Duan, rivali non in grado di svelare la reale consistenza della Spagnola. . Sono tre i precedenti tra Muguruza e Kvitova, un'incollatura di vantaggio per la Ceca. Nel 2015, alle finalità, affermazione nel round-robin di Garbine, nel 2016 la replica di Petra. . . A Stoccarda e Belling due acuti per mettere Pepe sulla rivalità. La partita di oggi è estremamente importante, l'occasione è ghiotta per volare ai quarti e giocare poi con i favori del pronostico contro Venus Williams o Carla Suarez Navarro. . . . . . .